Francesco De Vivo si è giocato alle zappi in questo 1.5 limit shot-out che vuol dire tutto e vuol dire niente, nel senso che non hai passato il turno, anche se sei arrivato fino alla fine. Sì, diciamo che rimane la mano in bocca perché se superavi il turno eri già premi e poi soprattutto essendo circa 500 persone c'erano i tavoli da 5 persone quindi rischiavi veramente di arrivare al tavolo di finale. Purtroppo io quando siamo rimasti in tre eravamo più o meno tutti con le stesse chips però avevo al mio tavolo un giocatore molto aggressivo, diciamo che ha avuto fortuna contro di me in un paio di mani, mi ha accorciato e poi le ha regalate tutte al mio avversario. Quindi poi quando siamo arrivati in zappi praticamente arrivamo circa 3 a 1 a favore del mio avversario, non ho visto stato card dead quindi non ho visto più carte, lui sì, niente, non ho fatto il miracolo di poter risalire. Beh tu già avevi ottenuto un zappi e lì invece vale tanto di più a Copenaghen, all'EPT, un secondo posto, hai sfiorato la picca di Buonavena e anche lì le zappi in una situazione particolare, vero? Sì perché era esattamente il contrario, a un certo punto io mi sono ritrovato 10 a 1 perché avevo circa 10 milioni di chips contro 1 milione e 4 e poi sono riuscito a perdere, quindi speravo perlomeno che la fortuna mi girasse un pochettino in questo caso, invece no, ma comunque va bene voglio dire, è sempre una soddisfazione. Entro nelle pieghe tecniche, fermo restando che i risultati sono assolutamente dalla tua, ovviamente quando uno perde gli zappi, due fanno scappare da ridere, non sono un numero probante, si fa anche delle domande, li gioco bene, li gioco meno bene, te le sei fatte? Io non mi reputo sicuramente un esperto del gioco e zappi, però dico che sia a Copenaghen, dove comunque se l'avversario continui a vedere ogni mano, donna-donna, so kappa, so donna, so jack in e zappi, diventa difficile riuscire, puoi essere bravo quanto vuoi, diventa difficile batterlo. In questo caso, ripeto, idem, nel limite comunque ti dà la possibilità di guardare qualche flop in più, io li ho guardati però non legavo mai, quindi potevo far poco. Beh, comunque bisogna che anche se non sei uno specialista di ezzappi, tu lo diventi, visto che se sei così bravo e cominci a fare tanti tavoli finali, bisogna che di ezzappi vinci a questo punto. Faremo così, sicuramente. Prossimi appuntamenti per te? Il prossimo appuntamento è il 2, quindi dopo domani, il 2005, no limit, e poi il main event. Bocca al lupo! Ciao a te.